Sono tante le aziende che fanno da partner Alital Service Calciacinque esattamente 22, quindi adesso ce n'è una nuova di tutto rispetto e che segue esattamente la filosofia e i principi della vostra azienda. Assolutamente sì, per noi è motivo di grosso orgoglio. Riuscire ad attirare, a portare aziende così importanti nel mondo del Calciacinque, nella famiglia di Alital Service, ci deve solo rendere orgogliosi per quello che stiamo facendo, per come stiamo lavorando e per come ci stiamo comportando. Sono tutte aziende leader, portarle in questo mondo della nostra famiglia penso che sia qualcosa di straordinario. Io, come ho detto, quando ho preso il Calciacinque, ero in Serie 2, non avrei mai pensato che aziende del livello di B4PET e VIP Italia potessero affiancare questa nostra realtà. Ci siamo arrivati, quindi vuol dire che qualcosa di buono e di positivo abbiamo fatto. Siamo con il dottor Vito Gatto di VIP Italia, che è un macro gruppo che coinvolge anche B4PET. B4PET sarà il logo che noi vedremo appunto in campo a partire dalle prossime partite. Allora, raccontiamo intanto della vostra azienda. VIP Italia è un'azienda italiana fatta da imprenditori italiani che ha circa 20 anni di anzianità. Trattiamo materie prime, tecnopolimeri e commodities e negli anni ci siamo concentrati anche nel mondo del riciclo delle materie plastiche. Un business parallelo a quello che è quello della distribuzione delle materie prime ci ha appassionato particolarmente. A tal punto che il Border nel 2020 ha deciso di acquisire due aziende del settore in Italia che operano nel mondo del riciclo delle bottiglie in pieti. Questo matrimonio è stato particolarmente felice. L'azienda in quattro anni è passata da 15 dipendenti a 50 dipendenti, da un fatturato di 5 milioni a 18 milioni di euro. Stiamo continuando ad investire nel mondo del riciclo perché riteniamo che sia una delle strade, forse per quello che ci riguarda, la più importante, nell'ambito dell'economia circolare. B4Pet, che è una società benefit. Cosa vuol dire? Le società benefit sono società che oltre al profitto, quindi oltre a puntare al profitto economico, si impongono, si autoimpongono altri valori. Gli impatti e i valori vengono definiti come valori di impatto. I valori di impatto possono essere di natura ambientale o di natura sociale. Cosa vuol dire nello specifico? La società cerca comunque di darsi degli obiettivi da rispettare, che sono obiettivi non solo economici, quindi numeri di bilancio, ma sono anche azioni che possano migliorare l'impatto ambientale della società, quindi con delle politiche, nel nostro caso, di migliorare i processi, ottimizzazione dei processi, evitare i consumi di risorse. Ogni consumo di risorse evitato è un minore impatto ambientale, e migliorare gli impatti che possono essere di natura sociale. Partiamo con una cifra importante per provare a salire. Provare a salire vuol dire provare a mettere il nome nelle maglie il prossimo anno e poi se ci dovesse essere anche una proposta di diventare main sponsor, perché no? Noi l'accettiamo, perché ecco io penso che, come ho detto, la forza e la ricchezza di questa società non è tanto la figura del Presidente, del Patron, che sì sono importanti perché fanno da collante, ma molto sono anche questi sponsor, queste aziende che comunque ci hanno affiancato e ci danno sostegno a 360 gradi da un punto di vista economico, ma non solo.